Qui vedo le altimetre, qui di nuovo sali leggero, niente di discesa, insomma tutta discesa, non è che sali, qui in piano comincia a salire, che è la prima salita, beh diciamo però ho visto che fondamentalmente ci sono due, qui risali, è un traverso, è un traverso velocissimo, poi qui scendi, scendi tutto, verso il lago, la diga, risali appena qui, c'è una piccola diga, risali appena qui, poi qui tutto in piano, tutto corribile, tutto corribile, che si chiama terre ballerine, è una curiosità che c'è qui, ci sono le radici degli alberi che hanno con il fango, con la torba, sotto c'è l'acqua e tu ti muovi, passatele vicino, passiamo vicino, eravamo passati il primo anno, poi ce l'hanno proibito perché si rovina, si rovina ma vanno i pullman, c'è pieno di gente, c'è comunque, qui di nuovo tutto abbastanza, c'è tutto corribile, sali appena qui la palestrina di roccia ma niente, tutto corribile, fin qua, ma diciamo che è tutta, poi questa è la salita più dura, è la salita, si prendono tutte le linee, si prendono tutte le linee, questa va bene, dipende, il passo, fai al passo, qui c'è, qui tutta discesa, fino a qui, discesa, qui risali, ma non così, non troppo perché vedo, risali, non troppo, un'arguccia, da discesina tecnici, qui vabbè, un pochino, abbiamo messo una corda, abbiamo messo una corda, per il risultato, per il tutto corrente, la continua, riuscate la ballerina, la potrella, per la scorsica, allora Giancarmo le ultime notizie quali sono? 10 minuti fa era qua tutto corrige fino al campo sportivo qui risali e risali fino qui poi si scende però hai ancora questa salita qua bella salita dritto dritto è la dove c'è la ala ah è l'ultima quella lì è troppo fatta anche questa eh siamo quella la che è la terra ma quale? è il metro eh? ci sarà la 15 metri ma quanti? fra Zampera un decine del metro si beh ma non è sopravviveremo 5 minuti alla partenza allora prego tutti di avvicinarsi all'area di partenza ed effettuare la pulzonatura grazie Silva Silvano Henry tutta gente cattiva qua noi andiamo nelle retrovie belli tranquilli a uno che non stava bene l'ho bevuto un po' o mi attacca a qualche malattia oppure risolve anche a me la situazione va bene pian pianino un po' per volta ce la portiamo a casa però più dura come del solito avanti 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 Grazie a tutti